anche oggi abbiamo i nostri super eroi e creare anche dei cartoni animati e mi sto cimentando anche con l'estation qualche cartone animato adesso ne ho fatto riprendendo una conferenza di pnl e l'ho integrata dentro il corso di aere station proprio perché i giovani hanno bisogno di motivarsi ed essere motivati quale miglior persona che impara a motivarsi da solo questa è la domanda che cos'è la felicità per loro o qual è il segreto del loro successo oggi vi vorrei raccontare una storia sono stato in un posto e mi sono messo a parlare con due persone e chiedendogli che cos'era la felicità per loro o come raggiungere il successo a certo punto è arrivata una ragazza pure carina e mi ha detto ti posso dare un bacio da uomo come tutti gli uomini dammi un bacio e mi ha dato un bacio sulla guancia e io poi ho chiesto a lei ma scusa ma perché tu mi hai dato un bacio dice grazie grazie di che grazie di quelle tre parole che mi hanno fatto decidere di iscrivermi in palestra che significa significa che delle volte tre parole messe una possono stimolare l'entusiasmo e la passione su qualcosa che ci piace e questa ragazza siccome non aveva soldi per iscriversi a dignità aveva tre giorni per trovare quei soldi le tre parole che hanno stimolato entusiasmo e passione oggi l'ho sentita e ha trovato quei soldi che gli mancavano cosa significa che il movimento crea energia l'energia crea entusiasmo e passione in quello che vuoi fare tanta gente mi dice ah ma per fare quella cosa ci vogliono tanti soldi no io ripeto sempre no ci vuole solamente entusiasmo e passione queste due componenti fanno muovere quel famoso quantum che è la molecola più piccola dell'universo che è informazione energia e delle volte si possono allora bisogna solamente provarle le cose perché se no è solamente pura teoria allora dobbiamo caricarci la mattina quando appoggiamo i piedi in terra sono connettato con il mondo e oggi sarà una giornata fantastica senza questo movimento quell'energia che crea il mediocre che non si vuole sforzare si appoggia sugli altri racconta ma no ma questo non si può fare perché sono tutte cazzate se uno vuole decidere profondamente di creare un cambio o crescere in quello che è il tuo dono quello che ti piace bisogna solo muoversi come io mi muovo crea energia consumo calorie ognuno si può muovere in base alla sua forza però dove sta il segreto tutte le mattine bisogna ripeterlo battere i piedi sono connettato con il mondo oggi sarà una giornata più fortunata della mia vita facciamo un esperimento la mattina scesi dal letto piantare questi due piedi sono connettato non con internet ma sono connettato con me stesso siamo tornati dal vivo quindi poche parole raccontate in un modo differente a cartone animati che è molto simpatico poi il professore potrà avere veramente un grande successo lo animeremo meglio e quindi la station creativa pnl riprende piede ripetere attraverso gli esercizi per tutti quei giovani che vogliono iniziare una professione che gli dia successo non è solamente attaccare ciò che ma anche rieducarsi personalmente e acquisire competenze che ti diano l'opportunità raggiungere i tuoi desideri quindi extension creativa pnl che è una branchia un po più per professionali però anche per giovani bisogna sempre iniziare da qualche parte giusto bisogna solo trovare il maestro bene grazie dell'ascolto credo che è andato tutto bene e ci vediamo alla prossima ciao